Caselle torinese, via Colombo 51, proponiamo appartamento con giardino, costruzione del 2013, classe B. Troviamo un ingresso living su sala con cucina vista. Questa è l'esposizione del terrazzo, comodo perché usciamo appunto dalla cucina. Abbiamo le zanzariere e le inferriate in tutto quanto l'appartamento. Per quanto riguarda l'antifurto c'è la predisposizione ma non è stato messo. Il terrazzo è molto ampio, comodo perché come potete vedere sopra abbiamo il balcone delle persone che vivono al primo piano e di conseguenza si può tranquillamente mangiare sotto. Spese condominali di riscaldamento, arriviamo sui 120 euro mensili. Questi sono tutti quanti i blindi interni e le zanzariera. Andiamo poi nel disimpegno dove ci troviamo il bagno ampio con box doccia e le due camere da letto, una delle quali esce come esposizione sul medesimo terrazzo che abbiamo appena visto. C'è un bel disimpegno dal quale eventualmente si potrebbe ricavare con una parete in cartongesso un ripostiglio interno, comodo, e poi la seconda camera anch'essa spaziosa che affaccia sull'esposizione opposta dove ci troviamo un giardino di proprietà. Anche da questa parte ci troviamo le inferriate e compreso il box auto e la cantina riscaldamento ovviamente autonomo e spese di gestione contenute e questo è quanto.